Devo essere sincero, finalmente abbiamo ottenuto splendidi risultati, questo è stato anche uno dei motivi per cui in questo periodo dal 2013 ad oggi fino al 2018 noi abbiamo aumentato il nostro FFO di circa il 20% e attenzione, questo è stato il periodo in cui il sistema universitario ha seguito un taglio di un miliardo, cioè di un 20%, quindi abbiamo ottenuto una performance notevra, quindi l'incremento numerico delle matricole è stato fondamentale al pari di altri elementi e strumenti che abbiamo individuato, le quote variabili dell'FFO e sotto questo profilo l'università di FFO si configura veramente un'università di eccellenza e siamo in assoluta controtendenza rispetto a tutte le università anche meridionali.